Benvenuti in una giornata della mia vita. Come ogni mattina ho la sveglia verso le 6. Ultimamente sto impostando questo orario perché voglio abituarmi per quando ci sarà la bimba e poi perché riesco a fare molte più cose alzandomi in questo orario. Una volta alzata dal letto, indosso chiaramente le ciabatte e vado a mettermi qualcosa addosso. Rimango in pigiama perché comunque non devo andare ancora al lavoro e poi come ogni mattina accarezzo la mia bimba perché ancora non posso baciarla e poi vado uno per uno da tutti i miei animaletti, dal cinci che è tenerissimo e che dice non mi toccare. Poi vado dalla mia piccola e bellissima Kiji che lei invece è proprio l'amore in persona, si farebbe coccolare 24 ore su 24. E poi c'è il mio maialino, il mio maialino domestico che anche lui è molto dolce. Una volta accarezzati i miei cani vado in bagno dove giro sempre i bastoncini perché emanano secondo me ancora più profumo ed è un gesto che mi ritaglio quotidianamente e poi chiaramente mi vado a lavare il viso e con esso anche il resto che però non ho filmato. Una volta che mi sono lavata vado in cucina e accendo subito una candela perché così mi rilassa siccome ho tanto tempo, al mattino circa un'oretta da dedicarmi, accendo la candela e la prima cosa che faccio per aprire gli occhi è chiaramente bere un caffè. Il caffè al mattino non si leva a nessuno, io ho l'anespresso e mi trovo davvero molto bene. Fatto il caffè questa mattina avevo voglia di fare una colazione con i fiocchi quindi mi sono fatta un yogurt greco con kiwi e granella di nozzola e manderle già tagliate. Ve la consiglio è una colazione che sazia molto, molto diciamo leggera ma nutriente. Appena è pronta la colazione mi vado a sedere e lavoro tantissimo al pc, la mattina mi aiuta tantissimo sia a svegliarmi sia a concentrarmi tanto poi al lavoro continuerò a stare al pc e solitamente rispondo ai vostri commenti oppure edito un video e l'ho imposto per il giorno stesso o il giorno dopo. Una volta finito quello che dovevo fare faccio il letto, ormai questa è un'abitudine che prima non avevo inizialmente l'ho odiata ma invece aiuta tantissimo a tenere casa più in ordine, rifare il letto subito dopo colazione. Fatemi sapere se anche per voi è così. E un gesto quotidiano che vi giuro quando tornerete a casa sentirete la camera profumatissima è spruzzare questo spray per gli ambienti di AMMA perché veramente profuma tantissimo e lascia la fragranza per tutto tutto il giorno nonostante io faccio areare la camera. Finito il letto vado a scegliere nell'armadio cosa devo indossare per andare al lavoro. Generalmente essendo in gravidanza prediligo sempre vestitini, l'intercambio ormai ho sempre i miei 5 preferiti e poi continuo a vestirmi quindi scelgo i pedalini. Ogni tanto ho la lotta perché questo tempo insomma non si capisce se un giorno fa freddo o un giorno fa caldo e basta. Una volta scelti mi metto le Dr. Martens che anche queste in gravidanza sono un must have. Dopo essermi vestita arriva il momento trucco e questi sono i prodotti che solitamente sto utilizzando quotidianamente e tengo sempre accesa una candela perché anche questo mi rilassa tantissimo. Allora vi dico fondamentale per me è legare i capelli perché veramente vanno ovunque soprattutto ultimamente che non faccio quasi mai la piega e poi è idratare benissimo il viso. Quindi mi raccomando ogni mattina mettetevi il contorno occhi e la crema viso e poi chiaramente utilizzate, io vi consiglio, i prodotti che proprio più preferite così soprattutto se dovete andare fuori e stare fuori insomma per diverse ore anche indossando insomma la mascherina e quant'altro vi ritroverete il make up al vostro ritorno perché ultimamente io sto notando che sia il caldo sia la mascherina un po' tendono a farmi andare via il fondotinta e non mi piace molto l'effetto e quindi sto utilizzando anziché provare nuovi prodotti sempre gli stessi perché così mi trovo bene e quindi niente. Qui vedete che appunto realizzo uno dei miei trucchi dell'ultimo periodo e con i miei prodotti preferiti. Per gli occhi vado ad utilizzare la mia palette del momento la Naked Wild West che è veramente bellissima e sulle labbra come al solito indosso un colorino nude che si sposa benissimo con tutti e prediligo i rossetti liquidi perché chiaramente rimangono e resistono a tutto. Ultimo step è il fissante che mi piace davvero tantissimo perché va a fissare e elevare l'effetto cipriato e mi consente una lunga tenuta del make up. Oggi avevo ricevuto un pacchettino da un sito quindi sono subito andata a disporlo nella camera della bimba perché era appunto un unicorno a forma con la lucina e con la luna e quindi sono andata subito a vedere come stesse sulla cassettiera e anche in questa camera io tengo il profumatore di Hava & May perché mi piace tantissimo e anche in questo caso sono andata a riporre altri vestitini che ho lavato sempre della Baby Birba Aurora e li ho messi appunto sotto il lettino la gulletta insomma come la volete chiamare e li metto nelle bustine per evitare che prendano polvere visto che rimarranno per molti mesi ancora dentro al lettino e qui c'è una breve panoramica di quello che stiamo realizzando io e Claudio ok basta perdermi in chiacchiere devo andare al lavoro prima di andare al lavoro giuro che sto parlando con Kira e la saluto gli dico di non preoccuparsi che tornerò presto e niente va bene vado a mettere la mascherina e prendo il mio zaino ed esco semplicemente vado al lavoro verso l'una e mezza torno da lavoro e la prima cosa che faccio è liberarmi di tutto parto dalle chiavi poi lo zaino insomma il cappotto quello che si fa normalmente e mi mangio il petto di pollo e l'insalata non vi ho fatto vedere la preparazione perché è davvero molto banale e semplice per cui ho evitato ma è uno di quei passi che faccio quotidianamente e velocemente all'ultimo minuto e poi mi era presa la fantasia di rendere la mia giornata più importante anche se si può dire così o comunque diciamo di non buttarmi sul letto perché ultimamente sono davvero stanca perché il panzone cresce e quindi ho voluto rendere la mia giornata più produttiva per cui sono andata a levare le ultime cose natalizie che mi erano rimaste perché ormai insomma siamo ad aprile e non mi sembrava il caso e quindi ho levato tutto quello che c'era di natalizio e lo sono andata a sostituire con dei colori bellissimi e sgargianti per la primavera e l'estate quindi sono partita dalle candelle di Ava e May che sono veramente bellissime intagliate in legno insomma poi sono andata a mettere una cosina che avevo presa a Polignano le bellissime conchiglie e il trullo le conchiglie sono sarde il trullo chiaramente pugliese insomma varie decorazioni e poi qui c'è il whisky altra cosa che mi piace tantissimo sono le lucine le metterei ovunque e ho ritirato fuori queste che sono con i finicotteri che se non erro erano di Tiger e quindi niente le ho messe pagate tipo 3 euro ma vi giuro sono davvero carinissime allora dopo aver reso leggermente primaverire la mia casetta si sta facendo buio sto aspettando di fare la cena e solitamente in questo lasso di tempo vado a fare le solite cose tipo spezza e tra un po' preparo la cena e mi strucco ma non credo siano molto carine da riprendere o meglio vedrete qualche passaggio dopo ma volevo parlarvi appunto di tutte le fragranze che avete visto all'interno di questo video parliamo di un brand che si chiama Ava & May praticamente questo brand realizza delle candele tutte 100% naturali che non fanno assolutamente male a chi le respira compresi i bambini, i nonati, gli animaletti domestici perché dovete sapere che ci sono invece delle candele che hanno sostanze chimiche all'interno che vanno appunto a nuocere la salute e sono sconsigliate mentre queste no la cosa bellissima oltre ai packaging vabbè vi arrivano le candele in queste bellissime scatole è che praticamente ogni candela è sviluppata per richiamare una città abbiamo ad esempio questa che è dei Caraibi quindi ha delle note comunque estive che ti riportano con la mente ai viaggi magari per chi li ha visitati oppure con l'immaginazione per chi in quei posti non c'è andato Ava & May mi ha fornito un codice sconto che vi metto in sovraimpressione lo trovate anche giù nell'info box per poter acquistare i loro prodotti perché non fanno solo candele ad un prezzo scontadissimo la candela ha vari formati ci sono quelle piccole, quelle grandi che hanno appunto tre stoppini quindi si sbruciano in una maniera veramente perfetta e ovviamente durano più ore la cosa bellissima è che hanno i loro coperchi in legno quindi sono esteticamente davvero bellissime e poi sono intagliati a mano infatti ogni candela è fatta a mano all'interno ci sono delle fragranze pensate che sono state studiate da dei profumieri davvero esperti quindi sono fantastiche ad esempio abbiamo questa che è Francia che è davvero buonissima la definirei proprio d'amore perché è leggera, fresca ma allo stesso tempo ha una punta che ti riporta proprio con la mente a vivere la Francia comunque Ava & May fa anche altri prodotti che secondo me questi dovete per forza provarli perché sono fantastici uno è un deodorante per l'ambiente ed è spray lo potete vaporizzare sia nell'ambiente sia appunto come faccio io sui tessuti negli armadi dà veramente una fragranza buonissima questo che ho io è Grecia e è in particolare Santorini dove sapete che dovevo andare purtroppo con questa situazione non ci sono andata quindi anche questo è il bello di questi prodotti perché ti portano ad immaginare come sarebbe stata una ipotetica vacanza ed è bello davvero sognare in questo periodo perché ne abbiamo bisogno un po' tutti altro prodotto secondo me indispensabile che non vi dovete far mancare è questo diffusore qui io lo tengo uno fisso in bagno e uno nella cameretta della bimba perché rinfresca tantissimo l'ambiente profuma e rende l'atmosfera in quella stanza davvero molto rilassante in questi periodi che viviamo tantissimo a casa secondo me rendere l'ambiente di casa accogliente, rilassante perché diciamocelo le candele anche quando vi truccate io quando faccio la colazione al mattino le accendo sempre rilassano tantissimo quindi insomma io ringrazio Ava e May per avermele mandate per aver sponsorizzato questo video e avermi aiutato a realizzarlo e adesso finita questa breve introduzione nel mondo Ava e May continuo a farvi vedere quello che solitamente io faccio durante appunto la giornata anche se ormai sono le 7 di sera e quindi ci avviamo verso la preparazione della cena ok è ora di cena qui mi vedete intento a tagliare i peperoni che sono una delle verdure che amo proprio follemente è sempre una cena veloce e spiziosa e che potete tranquillamente fare tutto l'anno non solo se siete in gravidanza è la scamorza con i peperoni e poi ho anche le fette di pane chiaramente c'era anche Claudio ma non si vedeva comunque dopo cena ultimamente vado sempre a letto perché vi ripeto sono molto stanca per cui passo un po' di tempo a rispondere ai vostri commenti a parlare con le amiche oppure semplicemente a rispondere a whatsapp per rilassarmi dopo essere stata al cellulare continuo a leggere il libro del periodo che riguarda la gravidanza che ha scritto una mia amica che si chiama Maria Diurni che vi lascio nell'info box se volete acquistarlo perché è davvero molto molto utile e vi prepara anche al parto e niente è tutto ciò lo faccio in compagnia come sempre di una candela che mi rilassa tantissimo ho finito di leggere la vado a spingere e vi do la buonanotte che si chiama Maria Diurni che si chiama Maria Diurni